Amici miei, ed ecco che con le prime piogge, finalmente, spuntano fuori loro. Mi avevate chiesto altri video sulla buona specie Marasmus aureades, fungo praticolo, chiamato anche gambe secche volgarmente, eccolo qua. E io sono qui per voi, per fare questo video di divulgazione. Mentre con il mio cesto e con un piccolo coltello che basta per scalzare i gambi del fungo, vi mostrerò questo gambe secche. Allora, andiamo a vederlo assieme, guardate, eh. Io vado qui e opero questa cosa, vedete? Ho scalzato praticamente il fungo. E cosa si nota? Innanzitutto la durezza del gambo. Il gambo è duro, duro, tenace. E poi, queste lamelle ampie, larghissime, intervallate da fini lamellule che non arrivano al gambo, in un fungo dove tra l'altro le lamelle non sono andate al gambo. Però vi voglio farvi vedere questo, vedete? Vedete? Quindi la larghezza delle lamelle, l'odore specifico suo, io lo sto usando adesso. Voi non mi vedete, ma io lo sto usando. Posso anche per un attimo girare e farvi vedere. Ecco, questo odore suo specifico, le piccole dimensioni e la caratteristica di essere igrofano. Cioè ora ha un colore così carico, ma quando si asciuga il tempo, se si asciuga il tempo, va a sbiadire tantissimo. Sono cresciuti dopo le piogge di questa notte di ieri. Io adesso farò questa raccolta perché li porto per un piccolo sugo da fare, no? A casa, però li vado a raccogliere adesso. Marasmus oreadis, commestibile, ma ovviamente da saper distinguere e riconoscere da che cosa. Da altri funghi praticoli che sono pericolosi. Il Marasmus oreadis, gambe secche, si riconosce per questo gambetto bello duro, bello tosto. E per queste lamelle rade, vedete? Lamelle rade. Dicevo prima che sono adnate al cappello, dito non adnate, scusate. E bisogna riconoscere l'attenzione alle lepioti che però presentano anello. Le piccole lepioti tossiche, velenose, anche mortali, dei pirati che però presentano anello. Che sono funghi eterogenei, cioè dove le lamelle non sono adnate al gambo appunto, che non presentano mai questi gambi duri così, questi toni di colore sono altrettanto rari. Qui non c'è screpolatura. Non sono, le piota non sono igrofane. E poi le lamelle sono fitte, non sono ampie in questa maniera. Marasmius oreades o gambe secche. Buon fungo dell'autunno. Buon appetito a tutti.